Con qualche settimana di ritardo si riconsegna l'oncologia che è un grande segnale, non solo perché è il venerdì santo, non solo perché si fa il vaccino ai malati oncologici, ai loro familiari, a chi li assiste, è un grande segnale in questa giornata. È importante che un servizio per Martina e tutto il presidio della Valle d'Itia con i comuni che afferiscono qui, ma devo dire anche per il supporto che Martina dà a Taranto in termini di utilizzazione degli spazi per dare un servizio a tutta la popolazione, questa rete oncologica tra Taranto, Martina, Castellaneta e Manduria sia anche una risposta effettiva. Intanto il Dipartimento di Prevenzione sta valutando perché prima gli hub dovevano essere a livello provinciale, noi invece siamo d'accordo che si facciano in ogni comune dove ci sono le condizioni per mettere in sicurezza la vaccinazione e mettere sotto controllo l'utilizzo del vaccino con gli operatori che devono avere strutture dedicate, perché se una persona si sente male si deve poter intervenire. Io apprezzo quello che la società ha dato come disponibilità, però mi rimetto alla decisione del Dipartimento di Prevenzione perché per me ogni azione deve essere fatta in sicurezza, come tanti medici e tante farmacie hanno dato la disponibilità, l'abbiamo raccolta, stiamo lavorando con loro, non solo per andare a casa a domicilio, per esempio per gli allettati, ma nel centro vaccinale non si deve correre alcun rischio, per cui l'importante è che noi si faccia i nuovi vaccini.